Cambia la stagione, perde la squama lo storione, anche il tempo non è più bello se non ti lavi. Per questo di lavare, siamo nella tua lavanderia. Quando cambia la stagione? Che bisogna fare? La parte scherzi. Quando cambia la stagione, se non hai già lavato nella primavera, i capi invernati... Sei con suddico perché hai tenuto... No, non è detto, sono abitudini. I capi invernali li tengono suddici tutta l'estate. Dipende, se sono particolarmente sporchi, no, ma sono abitudini... Insomma, ora bisogna rimettere fuori la roba invernale. Piove, 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 governo ladro, questa è una battuta, cazzo anche nuova. Ascolta, ti volevo dire una cosa, d'inverno gli acari si crescono o muoiono? C'è umidità, proliferano, ed è estate con il sole però, quindi perché... Coveno. 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 L'acaro cova. Ascolta, lui, ascoltate, perché io vi chiamo in generale. Allora, lui ha due lavanderie, una nel centro commerciale Sette Ponti, nella quale siamo, ed una a Salleo. È una persona seria, ha lavato anche le scarpe al papino. Salleo. Eh, cos'ha detto? E l'ho fatta per te. Salleo. Salleo. Ha lavato anche le scarpe al papino. Che voglio dire. Perché lava anche le scarpe. Il papino è contento. Il papino ieri fa conto dai salti, l'ha risporcato tutto. Va a caccia o circa funghi? Va a caccia, va a caccia è una parola grossa. Va per me. Spara. Salleo. 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 Grazie.